Royal Enfield ha appena lanciato per il 2025 la nuova Classic 650. Arriverà in quattro colorazioni, Black Chrome, Teal, Branting Thor Blue e Valam Red. La ricetta è la stessa che si può trovare su tutte le 650. Il motore bicilindrico, che produce 47 cavalli e 52 Nm di coppia. I prezzi partono da 6.800 euro e la moto sarà disponibile sul mercato da febbraio del 2025. Tutto richiama il look della 350 dal classico tachimetro cromato, abbinato però a due piccoli display LCD che nascondono la navigazione tripper turn by turn. Pedani dallo stile avanzato, un manubrio alto, cromature dappertutto, un reparto di sospensioni che è composto da una forcella con steli da 43 mm convenzionale all'anteriore e un doppio ammortizzatore piggyback classico al posteriore. Parafango grosso, uguale alla 350, le ruote da 19 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma mantiene ancora una volta il singolo freno a disco all'anteriore con pinza a doppio pistoncino. È veramente veramente bella, mancano però dettagli particolari di questa moto purtroppo ancora adesso, però si sa che il peso in ordine di marcia è di ben 243 kg. Ma quanto è bella, a me piace tantissimo ragazzi, ma voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale, cliccare la campanella e seguirmi anche su Instagram, agm.moto. Alla prossima!